Sono un po' preoccupato, francamente, da quello che mi vedo intorno, preoccupato politicamente parlando, perché mi sembra che stia montando una piccola marea, per carità, però anarcho-fascistoide, in cui tutto è sbagliato, tutto è da distruggere, tutto è da contestare, si contesta la Tav, come si contesta l'Expo, come si contesta tutto di tutto, tutto il nuovo, tutti quelli che vogliono fare qualcosa di nuovo o trasformare il paese dal presidente del Consiglio in giù si contestano, perché sarebbe meglio prima distruggere tutto, innanzitutto distruggere tutto, però non si parla di che cosa si vuole costruire, no, si cade poi in quel provincialismo che porta anche grandi giornali a titolare 50 o 500 super ricchi superano il reddito di milioni di persone, beh, e allora se ci sono dei super ricchi avranno una loro motivazione, ma poi che cos'è? Si instilla questa sorta di lotta di classe, di battaglia, di rivoluzione? Mamma mia, ragazzi miei, non siamo né in un pollaio, né in una riunione di condominio, dovremmo essere un paese con una centenaria e millenaria storia dietro le spalle e manifestare un attimo di saggezza. Riflettete gente, riflettete. Grazie a tutti.